Ad un anno dall'inizio della pandemia siamo andati a sentire come è cambiato il mondo del lavoro e il modo di lavorare. Nel 2020 a Pesaro hanno chiuso 40 negozi e 5 ristoranti. Abbiamo fatto il punto con i segretari della Confcommercio, Davide Ipaso. Oggi commemoriamo un anno, si parla di una quarantina di negozi e 4-5 attività appartenenti al gruppo RECA, quindi ristoranti o pubblici esercizi. Ma molti sono in difficoltà grossissime, abbiamo fatto delle riunioni in questi giorni con persone che dichiarano di avere buchi da 100-200 mila euro, quindi con difficoltà proprio a livello psicologico di vita, tornare a casa e dover chiedere i soldi ai propri genitori per poter comprare da mangiare ai propri figli. Questa è la situazione che noi stiamo vivendo e a oggi la stessa situazione di un anno fa. Non vediamo una fine, anzi se le notizie che arrivano leggendo i media, i giornali o sentendo le notizie ai vari telegiornali è quello di una incertezza totale perché se prima c'era il Covid adesso ci sono le varianti. Ogni volta che qualcuno dice qualcosa in tv dopo due secondi ce n'è un altro che dice l'opposto e questo sta creando una gran confusione e con la confusione non vengono create le certezze. E l'incertezza è la cosa che sta distruggendo principalmente tutte le attività nostre. Le storie sono state delle questue, a parte qualcosa, anche qui l'amministrazione comunale di Pesaro che ci ha regalato tra virgolette il 50% di tari, per qualcuno è una cifra esigua, per altri invece è un aiuto concreto. Ma sono quegli aiuti che servono per pagare le bollette, cioè non per dire che l'attività funziona, è viva e ha una prospettiva futura al medio e lungo termine. Viviamo la giornata ma se le notizie che arrivano sono quelle che ci sono, onestamente non sappiamo dove andare a sbattere la testa e la cosa più brutta è proprio questo clima di incertezza che non dà l'opportunità alle attività di poter lavorare per costruire, per investire, per prepararsi a un'estate.